Salve a tutti, ed è nel mio canale YouTube In questo nuovo video volevo mostrarvi come scaricare Ubuntu 11.10 Dato che io l'ho scaricato e mi trovo davvero bene Volevo mostrarvi come scaricarlo e installarlo Come prima cosa andiamo sul nostro browser Andiamo su Google Scriviamo Ubuntu Andiamo nella home page Ubuntu Italia Ok, ci troveremo davanti a questa schermata Andiamo qui sotto su Download Ecco E ci troveremo qui Allora, mettiamo opzioni di download Mettiamo Desktop Ubuntu 11.10, ultima versione E chi ha 32 bit o 64 bit Io ho un 32 bit come vi ho fatto vedere pochi istanti fa Poi, se volete scaricarlo direttamente dal sito Cliccate su qui, avvia download Per chi vi partirà il download diretto Per chi invece non vuole perdere tempo Vuole spegnere il computer Senza perdere tutto quello che ha fatto Posterà cliccare qui su 6Torrent Per una maggiore velocità E non intaserai il sito della Ubuntu Quindi basterà avviare il download E si scaricherà l'immagine ISO Di Ubuntu Una volta scaricato Basterà metterlo su un CD E fare o il dual boot Oppure, come ho fatto io Installarlo direttamente Come sistema operativo principale Per questo mio video tutorial è tutto Questo è il primo video tutorial su Ubuntu Ciao e alla prossima